Salve a tutti ragazzi, video velocissimo e molto breve, per chi come me ha fatto le talee invernali del fico, vi metto in fondo al video negli ultimi 6 secondi il link che vi porta proprio all'indirizzo di come si fanno queste talee, occorre fare la piccola potatura, come si dice la piccola manutenzione, occorre andare ad eliminare tutti quanti i fichi che abbiamo sulla talea in modo che l'apparato radicale che si sta formando non si va a sfruttare sull'ingrandimento del frutto ma sull'accrescimento del germoglio apicale, vediamo subito come si fa, è chiaro che questa manutenzione va effettuata solamente sulle talee prelevate da una pianta bifera e quindi quella che ha già sui rami di un anno anche le gemme a frutto e quindi che faranno i frutti, mentre sulle piante unifere non ci saranno questi fichi qua. Allora l'operazione è semplicissima, prendete un coltello ben affilato, io utilizzo questi qua da innesso che sono molto molto affilati. E' un'operazione semplicissima ma delicata, dobbiamo proprio andare ad eliminare a filo della nostra talea il piccolo fico, quindi con la massima attenzione facciamo un taglio netto in questo modo qua. ripassiamo il taglio se eventualmente è troppo troppo profondo, se abbiamo lasciato troppo diciamo picciolo, come si dice, e andiamo ad eliminare tutti quanti i nostri fichi in questo modo qui, vedete io ce n'ho un altro qua sotto, faccio un primo taglio per eliminarlo e poi faccio un secondo taglio di raddrizzamento per togliere questo piccolo picciolo che ho lasciato, altrimenti si vedono male, e questo è l'eliminazione dei fichi che stanno crescendo sulla nostra talea, eccole qua. Non vi preoccupate se nel taglio poi uscirà un po' di lattice, è assolutamente normale nella pianta del fico, procedete pian piano ad eliminare tutti quanti i vostri fichi. Ok? Spero che anche questo video sia stato di aiuto, vi saluto, ci vediamo alla prossima, io intanto continuo a togliere i piccoli fichi.